Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Cucing, nel Borneo Malese e vi mostrerò un po' il centro della città con un brevissimo tour in moto proprio una breve veloce carrellata, vi mostrerò le cose che ci sono interessanti qui da vedere incominciamo con questa bellissima pianta enorme, immensa, che viste anche le sue fattezze è un vero e proprio monumento all'interno della città il giro continua, ecco qua, questa è la mia moto, così anche voi ci credete che sono in giro in moto con una moto super scassata che mi ha accompagnato in questo tour malesiano andiamo piano piano, lentamente, senza fretta e vi mostro un po', vi trasmetto un po' le mie sensazioni e vi mostro un po' le mie sensazioni vediamo se ce la faccio a passare in mezzo agli autobus andando contromano e vi mostro un po' le mie sensazioni e vi mostro un po' le mie sensazioni e vi mostro un po' le mie in questo territorio e vi mostro un po' le mie sensazioni ecco a passare in mezzo e vi mostro un po' le mie sensazioni se c'è una situazione Grazie a tutti. 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 Siamo giunti al termine, credo di avervi mostrato un piccolo giretto interessante, avete visto quello che hanno visto i miei stessi occhi, ho trasmesso con un no comment generale quelle che erano le mie sensazioni visive e ci sentiamo alla prossima.